Ogni volta che parlo con te, tu mi guardi e mi chiami Annarello, ma perché tu mi chiami Annarello se mi chiamo Carmine? Ma perché prima di dormire, tu mi devi per forza dire, che non so che nessuno a confronto di Gigi D'Alessio, vattene a vivere a casa di Gigi D'Alessio, falle con lui quelle cose che non fai con me. Doni D'Ambaro e Simone Cristicchi, grazie. Napoli vi abbraccia. Grazie, grazie. E questa è? E questa è? E questa è? Gigi D'Alessio! Che dobbiamo fare? Gigi D'Alessio! Una magica storia per me. Chi è? Gigi D'Alessio! Grande! Ma dove è cattato? Aria 101 questa è? Grande mezzo! Ma soprattutto grande Gigi D'Alessio! Grande Gigi, grande grande Gigi! Oh a Gigi, che combinato fratto tuoi! E canaia! Oh a Gigi comunque ti posso dire una cosa? Complimenti se è una favola! In che senso, scusa? Nel senso che teno fisica di Pinocchio che la capa in ceppetta! Ti voglio far capire! Guarda che Gigi mi è piaciuto proprio l'organizzazione, ma pure il lucco! Sai se è bello come il lucco? Ti piace o no? Ti piace questo? No, stai va bene? Ti piace? Ma te stai facendo crescere la basetta e mezza capo! Stai bene, ragazzi! Gigi, ti voglio dire solamente una cosa, fratto! Si! Ma due picciviče, nisaću! Gigi, due picciviče, nisaću! Gigi, due picciviče, nisaću! Ma che stai facendo! Ma da voglio bene! Gigi, picciviče, nisaću! Ma state ziti!